Benvenuti in questa nuova reazione di TikTok, io sono Octi di Purfebbre Italiana col capellino da 50 centesimi e questo è il coach del supporto a un creatore che dovete usare nel vostro shop OctiPfi Lasciate subito un mi piace al video se volete un altro video in compagnia di Zerbia nei cap a una reaction dei TikTok detto ciò, andiamo subito al video Il ladro che rompe in casa mia pensando che nessuno sia sveglio e poi c'è Zerbi che fa i TikTok Oh ma cosa vuoi da me? In che senso c'è? Vedi il ladro che ti guarda Tu che guardi il ladro Ma che cosa succede? Oh ma questo guida è rianimato? Qua torniamo nella stagione 2 Vedi lui rianima il compagno e il compagno gli spara Allora lui si arrabbia Ah vero i cerazzi Potevano uscire un uccidere Ah c'era il fuoco amico Esatto esatto Ma perché poi ti bannavano col fuoco amico Sì sì se ne ammazzavi tantissimi ti bannavano sicuro Oh ma si è proprio arrabbiato eh Sta lì a... Ecco gli lancia pure la granata Le granate Se no dell'icona della granata è quella vecchia È vero è vero ma anche quelle del pompa guarda La nuova skin dell'albero Sono in due lì a camperare Oh Oh Bisogna Bisogna farlo E ninja Ninja Ah sì Questo è capo quando prenderà la patente No 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 Io ce l'ho già e non faccio così quindi Cos'è che c'hai? Che figata questa cosa raga Bisogna farla i compagni Esatto Questo è 1v1 contro Spiderman Ok Ma che... Non lo vedi? Avrò la vita sicuro guardate raga Scusate quale punto è della mappa che non ho mai visto? È una creative Cos'è questo? Povero bambino mi sa che è morto Questo... Madre con quella spada laser? Avete presente questo effetto di tiktok? Sì 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 Che puoi fare tipo le foto Ma questo è assurdo eh Guarda cosa fa Guarda cosa fa Ma funziona veramente? Cioè non è editato... No no Lo sta facendo davvero ma è assurdo Che figata Che figata E gli esce giusto alla prima eh Guarda Io non riesco a farlo con le mie mani Pensate voi Sì esatto Guarda che figata Assurda È stato bravo qua Questo qua è un... Pro player di tiktok Un po' come la support Ninja Ninja che imparava a fare i 90's È morto è morto Ah no non è morto Ma questo qui era la season vecchissima comunque Zerbia non sei te Non ti stai guardando da solo Non puoi dire è morto Infatti io non morirei mai Cazzo Sì dai sì sì certo certo Un lama piccolo Un lama medio Un lama grande Eeeh Madonna Madonna Ma cos'è La musica La musica La musica Zeccata alla perfezione Ma lo vedi È tantissimi lama Ma raga quanto ce l'ho Mentre sto fatto Che figata Sono fatti da dio però eh Questo sono io Questo rega sono io No 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 Questo sono io La mia clip Sta guardando La mia clip Rega dai si vede C'è scritto in basso Capitan Blade Questo è Luca di Shikoku Jin Così forte Ok Wakanda forever Ah questo qui era lo scontro Lo scontro tra robot Eeeh Così Un riassunto delle spade laser Su Fortnite Un riassunto delle spade laser Sì 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 Quello Quella gli lancia le palle di neve Lui si arrabbia Questo si incacchia infatti Secondo me Guarda Questo qua è fermo Tere tere Lo insegue Ma comunque sono fatti Veramente bene Che cavolata Guarda qua Guarda qua Lui usa la spada laser Eeeh Va bene Questo ha avuto una fortuna Questo qua sono io Diciamo Zerby quando edita Bravo Bravo No 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 È Zerby È Zerby È una clip di Zerby Confermo Qua si bugga E non parte la launchpad Ma è la zombie della season 1 rega No 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 Season 1 è vero Si è buggato la launchpad Che roba Qui invece Anche questa è assurda Assurda Guarda cosa fa adesso E beh certo Guarda qua Oh Chiaro Oh Quattro colpi È assurdo Oddio No ragazzi Questo è Luca di Shikokujin Questo qua guarda Questa è Imerin Anche questa è Imerin Imerin 3 Imerin Eh ma guarda quante Imerin ci sono Tutte Imerin Mi scappa Questo è Zerby in discoteca Questo qui è il camp in discoteca No 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 Questo è un compagno perfetto Ti prende Ti butta via E va a lottare Ma guarda Questo è Zerby In tutte le partite che faccio io Tutte Tutte Infatti tu sei morto E io ti prendo No 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 Aspetta No Che ziamo Acti Bella questa clip però eh Bella Questa clip Questo è TPU che va in bagno E intanto lo cecchinano Vedete che Mira Cioè lui non sta facendo niente Excuse me Che faccia ha fatto Raga quando si è accorto di essere morto Non è morto eh Attenzione Le vecchie star away to even Avete presente Eh non riesce a saltare Perché era stanco No Che figare Cioè no Non ci credo No dai Mi sto rimpazzito Anche questo è bellissimo Anche questo Così abbiamo fatto io e te Cap ti ricordi È lo scherzo della cascata Sì sì Ora si rompe ovviamente Cascano giù È bellissimo Abbiamo fatto anche io e te Sì 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 Lo scherzo della cascata Che bello Bisognerebbe farlo Sì giusto giusto Questo è morto Ma come è vestito raga Il tizio ride Cioè come non è vestito È nudo Eh esatto Adesso c'è chi non lo guarda eh Ecco È un dinosauro Cos'è Guarda Questo è un cinese Guarda 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 È così bravo Raga hanno ripreso una clip La devono smettere di rubare le mie clip Infatti Infatti La devono smettere Esatto Ecco Questo è un lancio nel bidone E via È lì che devi stare E poi ride Perché Che cavolata Poverino Però è anche un compagno Qui Lui spara il nemico Il nemico sparisce nel nulla Ma dove è finito? A forno di premium È un hacker Guarda bene Ma No magari c'erano le granate Delle invisibilità Boh Eh no Non penso proprio Questo è È tre Eh ma comunque Quelle granate Delle invisibilità Lo vedevi Viola Tipo Fantasma Ma questo Questo cammina Non lo sto Oh raga ma lo state vedendo Ogni giorno milioni di lama Vengono maltrattati Vengono fatti esplodere Vengono fatti esplodere Vengono fatti Eh vengono fatti esplodere di nuovo Non abusare Non abusare Metti fine alla loro sofferenza Chiama anche tu il 0242 Dona 2 euro È il numero di Zerbian Eh esatto Adesso lo dico Adesso lo dico Aspetta Benvenuti A Jurassic Park Che figata Che figata Questa è fatta In creativa però No Rega ma quanto Sono messo Ma sta roba Ecco perché Non è bello Fortnite capitolo 2 Ma cos'è Un'istruzione di massa Rega Quante grande Cioè vabbè Di più no eh Quanto figata è questo Ma quanto Ci ho messo a farlo Più che altro Sì esatto Quanti tagli han fatto Rega quanti Ogni cosa Da dove viene presa Ma che Ok Vabbè Questo ha forno i premium Sono io quando cecchino Hai forno Qui sono io quando cecchino Oltre che te No no Zerbian Non ci credi manco te Che figata questa lobby Oh no Oh no I giocatori di Fortnite Durante la terza guerra mondiale Perché non posso costruire Perché non posso costruire I player da Xbox Nel senso che sono scarsi No discriminazione Guarda qua Sono scarsi Sparano a caso Vabbè Sì ho capito Ma anche quello che va contro Il giocatore da PS4 Ah no Anche questo è Fortnite premium Vedi Tu muovi Qui sono io Col pad Diverso Ma che Sono dei miei clip Lui mangia la banana 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 va in paradiso Ma che Adesso ricade Eh no Gli arriva dalle spalle E guarda cosa fa Gli spara Che figata Sto TikTok Lui vede una figa Sei molto carina Posso prendere il tuo numero Sono fatti veramente bene Guarda sta roba No Hai visto Questa è una giocata Vedi ragazzi Tutti i miei clip La devono smettere di rubarmi le clip È incredibile Sono tutte prese dal video di Cap Bravo Hai detto bene Tutte 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 Ecco Guarda questo Anche questa è una clip presa da Cap No si salva No si salva No si salva Sì Sì che era presa da Cap Sì Ah voglia Altro che Lui prende l'arma È finita Per il nostro eroe Ma Lo fa saltar via Lo fa saltar via Sì certo Ma che fortuna Di nuovo la vecchia Pinnacoli pendenti Ma questo Ok Ha ancora 20 di vita Ha ancora 20 di vita Basta ancora una piccolata Ma lo so Ho già visto io sta clip Guarda guarda Adesso lo sapevo Non ci credo Sono morti entrambi Ecco Questa è Cap In discoteca Ma 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 che figata Questa clip Vi lascerà A bocca aperta Perché non succede esattamente niente Cioè è infinito Ci stavo sperando Vi giuro Ma è un genio È infinito così E questo Stanno timmando loro Non va bene Infatti vengono puniti Guarda Ma 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 da dove Ma gli è sparato lui Da chi No 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 Da un altro Ma questo John Zero Sono fatte troppo bene Ok Cap Zerbin avete 5 minuti a testa Per fare l'altro Forza 5 secondi Cap Sì 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 Mi raccomando un bel like Non dimenticate di iscrivervi al canale Ti vado a campanile per romperli Tutti i nostri video E qualsiasi camera Non dimenticate di iscrivervi a Instagram Che ti avvicinare a fare questo Ciao Ciao